Ingredienti Dosi per 4 persone 450 grammi di pasta corta 300 grammi di piselli surgelati 200 grammi di pomodori pelati 4 cipolle 50 grammi di burro 1 fetta di pancetta Prezzemolo Sale e pepe Preparazione Friggere le cipolle a fette e la pancetta a dadini in metà del burro Aggiungere i pomodori tritati I piselli scongelati Il sale Il pepe cuocere per 20 o 30 minuti Cuocere la pasta al dente in abbondante acqua salata e condirla con la salsa Aggiungere il burro rimanente e il prezzemolo tritato e servire Il piatto è pronto Buon appetito!